Non stiamo spostando insieme proviamo a provare questo l'avrei detto anche l'anno scorso se non è passato troppo spostiamo come un uomo e dice prende come ha fatto l'esempio come se un pallone che ovviamente comunque vola se lo tieni l'importante è che si è ancorato al 2 a 4 cioè noi possiamo spostare il 1 al 3 per lì il 2 al 4 devono essere così lì sono i punti di senti 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 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 13 15 12 13 13 14 15 16 16 15 15 16 15 16 15 16 20 No risere. I like that one. I like that one. I like that one. I like you sweating. Let's do the intro. Can we have an intro to see you in the A-plot? I like that one. 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 No, no, no. No, no, no.